Il momento del transito meridiano, 13.07, è stato il momento in cui ho detto adesso. Il mio tallone è sulla linea meridiana, tallone destro. E anche l'occhio destro, più o meno sulla meridiana, e anche il telefonino. Il sole è stato tagliato in due dal braccio nord orizzontale della croce, che è quello che si vede da qui. E adesso stiamo osservando l'immersione del disco solare da questo braccio nord. Ma la stiamo... e l'immersione va verso oest. La ghost image va verso sinistra, cioè verso est. E' solo tramite quella che riusciamo a vedere qualche cosa. La telecamera è tenuta a mano, ed ora possiamo guardare sia l'orario che la linea meridiana. Sostizio d'estate. L'ombra. Un caso Bernardo. Car piccolare. Ragazzi, strhandare che amare un secondo progetto l'aff지도 beds si resta... ...inciutto nella videoconferta. E' altro situazione. Tra le cose si perdesse delle gallesse. Grazie.